Oggi presentate una nuova ricetta, qual è? Il guazzetto con la canocchia, è una ricetta antica per il paese ma nuova per la sagra. Di cosa si tratta, qual è la differenza rispetto ad altri modi in cui abbiamo visto cucinare la canocchia? C'è un procedimento un po' diverso, è un po' più laborioso perché viene fatto anche un battuto di pangrattato, prezzemolo, aglio, sale e pepe. La canocchia viene pulita e al centro viene messo questo battuto, dopo viene cotta con il guazzetto. Ecco, è una ricetta più invernale, estiva, va bene per tutte le stagioni? Diciamo che va bene per sempre. E piace ovviamente i comachiesi, che secondo voi piacerà anche agli amanti del pesce? Piaccio a tutti, soprattutto i bambini perché si sguazzano proprio. Sagra che ci sarà a maggio, gli ultimi due weekend di maggio, cosa ci aspetterà? Allora, la Sagra si apre il 19 e il 20 maggio come primo weekend, il 26 e il 27 come secondo. Vi aspetta lo stand gastronomico, all'interno del mercato ittico ci sarà la cucina dove prepareremo tutte le nostre preparazioni. Ci saranno vari momenti di svago, il mercatino e in più ci sarà il padellone tipico di Comacchio dove ci sarà il fritto da passeggio. E vari cooking show, ci saranno altre manifestazioni sportive e soprattutto ci sarà un grande spettacolo piro musicale il 26 per chiudere la Sagra. Lei che è di Porto Garibaldi, quant'è attesa la Sagra tra lei e i suoi paesani? La Sagra è un momento di incontro per Porto Garibaldi, per la marineria perché operiamo prodotti locali, prodotti freschi. Tanta gente che ci aspettiamo che arrivi come turisti e per il paese è un evento perché porta tanta gente, tutte le attività si spera lavorino.